Quando parliamo di innovazione nell'ambito della pesca parliamo sicuramente di prodotti tecnologicamente all'avanguardia, pratici e affidabili nell'utilizzo. Il Dipper comprende sicuramente tutte queste caratteristiche. È una nuova tecnologia di agoscandaglio che si connette direttamente ai vostri smartphone o tablet senza cavi, tramite wifi o bluetooth. È un ecoscandaglio in grado di poter ricreare una mappa patimetrica del fondale e dell'ambiente che state affrontando per poi caricarla su una piattaforma online che si chiama LakeBook, che è una sorta di account personale che racchiude tutti i dati delle vostre sessioni di pesca, inclusi le scandagliature del fondale, le mappe patimetriche, i punti e i tragitti che avete trascorso durante la vostra sessione di pesca. Inoltre grazie a LakeBook è possibile condividere tutte queste informazioni di ogni singolo ambiente con i vostri amici che andranno ad affrontare magari quell'ambiente e non lo conoscono. Tutte queste caratteristiche fanno a mio avviso del Dipper uno degli attrezzi e degli ecoscandagli più all'avanguardia. Il Dipper mi accompagna ormai in modo costante durante tutte le mie sessioni di pesca. Io pesco principalmente dall'imbarcazione e grazie al supporto proprio della Dipper per poter adattare il Dipper alle imbarcazioni lo utilizzo in sostituzione dei classici ecoscandagli. Che dire, un prodotto sicuramente all'avanguardia, innovativo, dal piccolo ingombro pratico ma soprattutto molto affidabile. Grazie. Grazie.